La spinosa questione delle ispezioni alle caldaie torna all'attenzione del consiglio provinciale BAT. Un ordine del giorno di cui è primo fermatario il consigliere PDL Saverio Fucci sarà discusso nella riunione di venerdì. La questione torna all'attenzione del consiglio provinciale perché, secondo quanto riferito dai consiglieri fermatari dell'ordine del giorno, ancora nessuna comunicazione chiarificatrice è pervenuta da parte del dirigente del settore. Il servizio di esecuzione delle ispezioni, dello stato di esercizio, e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici nei comuni di Andria, Trani, Canosa, Minervino e Spinazzola fu affidato il 21 dicembre 2011 alla ASAX SCARL di Lecce con provvedimento verbale che rinnovava i parametri tenuti con la provincia di Bari ed avrebbe dovuto avere una durata di 180 giorni. Il servizio è durato oltre la data fissata e prevedeva che nel caso il titolare dell'impianto non si fosse fatto trovare all'appuntamento cui la ASAX invitava, la stessa avrebbe emesso una sanzione di circa 50 euro e la provincia avrebbe così incassato oltre un milione di euro. Una petizione popolare sottoscritta da cittadini di Trani ha evidenziato diverse problematiche sulla questione, tanto da indurre il presidente della provincia Batta ad annunciare la sospensione dell'efficacia delle sanzioni combinate dalla società ASAX per la mancata ispezione delle caldaie dovuta all'assenza dell'utente. L'ordine del giorno, se approvato, impegnerà il presidente Francesco Ventola ad avviare ogni iniziativa utile a risolvere le problematiche relative soprattutto alle multe elevate e sollecitare il dirigente perché dia seguito alla deliberazione dell'8 novembre scorso in cui si invitava il dirigente competente a valutare e richiedere l'annullamento di tutte le sanzioni, punto su cui, come detto, il dirigente non ha fatto pervenire ancora nessuna risposta.